www.workintime.it E' essere in questa puntata che appunto porta il titolo opportunità europee. Lo facciamo perché nella nostra regione, nel capoluogo d'Orico pochi giorni fa, c'è stato un evento importante, facciamo vedere anche la locandina, opportunità europee per il rilancio delle Marche. Ovviamente è un evento che fa riferimento alla regione Marche, ma Marisa è di opportunità, l'Europa ne dà veramente tante. E' vero, l'Europa ne dà veramente tanti e mi considero un prodotto di questa opportunità perché tanti anni fa, negli anni 90, io ero e sono tutt'oggi un europeista convinta. Penso che insieme a tutto il resto dei paesi europei siamo tutti molto più bravi, abbiamo più valore, più coraggio che ognuno separato per conto solo. E questo è una cosa che sia evidente anche, e di trattori di questa Europa, devo riconoscere che insieme siamo meglio, che ogni uno ha disgregato e per conto solo. Perché se sentito dire durante tutto questo periodo, quando c'era la lira era meglio, quando c'era la pesetta era meglio, quando c'era il franco era meglio. No, non era meglio. Io vi lo dico anche perché erano paesi nei quali lavoravo e ogni volta che andavo in uno o in un altro dovevo cambiare le pesette per franco. O franco le devo cambiare per lire, la lira di nuovo per franco, eccetera, eccetera. Quindi anche se soltanto per una questione di comodità e di opportunità, come stava presentando prima Maria Pia, è interessante analizzare e parlare di questa Europa. Quindi secondo te è vero che l'Unione fa la forza, al tempo del proverbio non si parlava di Unione Europea, però comunque insomma è un detto popolare che può essere applicato a questa materia. Il 3 aprile c'è stato questo convegno, appunto questo incontro per parlare delle opportunità europee, Next Generation, EU, PNRR, FESR, Fondo Sociale Europeo Plus. Questi sono tutti fondi messi a disposizione dall'Unione Europea per le imprese, per le aziende, per i cittadini della nostra regione e non solo, anche di tutti gli altri paesi membri. Andando a scorrere su questa locandina, leggiamo insomma i nomi di tutti gli importanti relatori dell'evento, quindi dai saluti istituzionali del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, a diversi saluti istituzionali e interventi. Tra questi ci hai segnalato qui, caso ha voluto che ci sia anche un asterisco che non hai messo tu, però ci hai segnalato questo Armando Melone, capo team affari politici della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Che cosa ti lega a questo relatore? Un episodio della mia vita professionale molto interessante che è trascorso intorno agli anni 90 e si è catalizzato nel 1994 con la creazione a Bruxelles del primo club europeo di esperti in diritto del lavoro. Praticamente gli anfitrioni siamo stati paesi della Spagna e dell'Italia e a me mi hai trovato ovviamente come una delle protagoniste e non che madrina di questo club dal momento che trasferendomi in Italia sono stato il vivo esempio della collaborazione europea. E Armando Melone è stato uno dei funzionari che insieme a Giorgio Liberani quella volta ha facilitato la creazione di questo club. Quindi è stato molto molto interessante perché rappresentati del diritto del lavoro italiano, rappresentati del diritto del lavoro spagnoli ci siamo tutti dati appuntamento a Bruxelles e lì abbiamo pensato che ci dovevamo riconoscere tra di noi. Perché cosa? Intanto anche per omologare criteri all'ora di applicare la normativa. E come ho raccontato già in altre occasioni io sono stata molto fortunata quando sono venuta in Italia e mi sono occupata dalla normativa sempre all'interno del diritto del lavoro della igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ero già un pochino più avvantaggiata dei miei colleghi italiani dal momento che nella università vedevamo queste problematiche. Quindi sono tanti anni, quelli che sono trascorsi mi hanno fatto tanto piacere di nuovo, era in remoto quindi non l'ho potuto salutare direttamente per aver Armando Melone che è stato uno dei coautori di questa creazione di questo club europeo che tutt'oggi è presente. E lì il problema della realizzazione di questo club purtroppo mi piacerebbe molto parlare con la nostra cara ministra del lavoro Marina Calderone che la saluto casomai da questa trasmissione, un'amica, nonché la persona che in questo momento rappresenta anche questo club europeo delle professioni lavoristiche all'interno della sede europea, con l'animo di chiedergli che questo club deve diventare patrimonio della base, delle persone che tutti i giorni combattono e che tutti i giorni fanno consulenza nelle aziende. Questa sarebbe la mia proposta di collaborazione massima, di fare calare la realtà di tutti questi bellissimi progetti che non devono rimanere sulla carta, non devono rimanere sulle buone proposte, i buoni propositi. Quindi sarebbe l'ora che cominciamo a dimostrare che non è solo sulla carta, quando molte persone ci diamo tanto, ma tanto, tanto da fare per mettere in piedi queste iniziative e mi dispiace che rimangano soltanto per mettersi le medagliette a livello istituzionale. Detto questo andiamo avanti. Nella scorsa trasmissione, quando abbiamo parlato del progetto Erasmus+, un'altra opportunità che dà l'Europa, ci hai portato una slide con un muro di carte, quelle che si chiamano scartoffie burocratiche, da scalare quando si mettono in campo questi progetti, dando un'occhiata poi alla locandina di questo importante evento, presenti ministro, assessori, la Banca Europea degli Investimenti, presenti il Parlamento Europeo, il Presidente di Svem, sviluppo Europa Marche, è anche responsabile dei programmi UE, della Cassa, depositi e prestiti. Allora lì mi è venuta in mente questa domandina, come siamo messi con la burocrazia per queste opportunità? Le opportunità ci sono, abbiamo parlato l'altra volta dell'Erasmus+, quindi un progetto preciso e ne abbiamo fatto emergere le difficoltà, c'è anche un altro progetto, il progetto Leonardo, che è un progetto molto importante per i giovani. Qual è la difficoltà che si incontra nell'intercettare questi fondi, nel mettere in pratica queste opportunità? Bene, avete visto infatti la passata settimana come abbiamo portato in Italia, sono qua con noi rappresentanti dell'Erasmus+, di questi ragazzi che vengono a un istituto della Rioja, della mia città. E allora in questo caso la burocrazia si è snellita, perché conoscendoci come ci conosciamo abbiamo fatto tutto velocemente, siamo riusciti a portare questi tre ragazzi e anche i loro professori, perché anche i professori hanno soffritto di questi benefici della Unione Europea, portarli qui nelle Marche, qui a Dancona, per fare uno stage che durerà 400 ore, è un bello stage, una bella pratica, per questo le aziende clienti del nostro studio, della nostra Work It Italia e del nostro studio Garotti. Quindi insieme questi ragazzi faranno un po' di analisi delle aziende italiane, vedranno la differenza con le aziende spagnole. E questo è l'Erasmus+, che dà questa opportunità di viaggiare, già dal momento degli studi, con l'Erasmus tradizionale, che è stata una vera opportunità per i ragazzi che hanno approfittato dell'Erasmus. Poi questa e l'Erasmus+, già cominciano a fare le pratiche presso le aziende, quindi avanti si vada. E con il resto dei progetti che ci hanno presentato, attenzione anche i professionisti, che non li abbiamo menzionato fino adesso, perché anche ci sono di questi progetti per professionisti. Quindi se questa Europa deve funzionare, non può funzionare solo sulla carta. Quindi l'augurio mio è che tutti quanti facciamo e mettiamo il nostro chico di sabbia, perché questi progetti europei possano, ovviamente, tramutarsi o trasferirsi alla realtà, alla vera realtà, alle nostre aziende, ai nostri allievi, agli studenti, ai professionisti che accompagnano gli studenti quando vanno in altri paesi dell'Unione Europea. Progetti, avete visto, ci sono diversi progetti. Informatevi, abbiamo la ESVEM, prima ESVIM, che sempre, ovviamente, cerca di tradurre tutti i progetti, cerca di farli facili, però, insisto, ripeto, burocrazia ce ne è tanta. Sempre abbiamo aiutato, haciende ai laboratori, a solucionare le problematiche presentate da questa burocrazia. Quindi noi siamo qua, oltre a, ovviamente, gli estamenti pubblici, che non sempre, per esempio, ci hanno la facilità di entrare in contatto diretto o veloce, veloce, veloce con le aziende. Quindi, ecco, noi siamo qua come professionisti esperti, che da tantissimo tempo, da tantissimi anni, aiutiamo alle nostre aziende e anche ai laboratori a trasferirsi in altre città d'Europa. È meraviglioso, animo a tutti a farlo. Io, ripeto, sono un prodotto di questi trasferimenti e di questi progetti europei. Perciò, a me mi è andato molto bene. Ognuno racconta la fiera come le va, insisto, praticate, andate e viaggiate. Viaggiate che arricchisce tanto come lo studio. E poi, tra qualche puntata, aspettiamo un attimo che Lucia impari un po' l'italiano. E l'ospiteremo anche in trasmissione. Noi speriamo di approfondire le nostre conoscenze nella lingua spagnola. Io ringrazio Marisa Rodriguez, titolare di Workate Italia. Grazie per essere stata con noi. Grazie a te, Maria Pia. Grazie a tutti quanti voi per l'ascolto. E a voi do appuntamento alla prossima puntata di Working Time. Arrivederci. Grazie a tutti.